Noi andiamo Devi arrampicare sul palo e col piede Dai, dai, dai Dai, dai Dai, dai Dai, dai Dai, dai Dai, dai 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 Aspetta Aspetta Dove ti faccio? Ti puoi rimettere in posa? I Ho proprio si da si l'urge, ma me la rubano Aspetta Veni con lo scaletto la prossima settimana Lo bo A Aspetta 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 Ali del? Mario Ma Mario Uolo muovo poveroneze del genere marco Grazie, mi sapevo che... L'opzione era fatene accorgere alle 4 di mattina però E una l'hai dita solo in banana quindi via dopo baschi e devi tirarlo fuori Ah, stasera è difficile, però se ve lo fate dopo il baluard e provatevi che la lanci Vabbè, stavolta l'ho lasciato in qua, l'ho lasciato ovunque.